Ciao a tutti, lei è Gipsy e lui è Miki e benvenuti in questo nuovo video! Ragazzi, abbiamo un altro gattino, però è di nostra cugina, Francesca. E' troppo pesante, Gipsy. Questo si chiama Miki ed è un mastico. E' troppo pesante, Gipsy. Fammi sentire, è malissimo male. E' pesantissima, sei mi aiuta quantissimo. Invece Miki è leggero come una piuma. Sì, quella che conosceva già. E lui è Miki, è quello nuovo. Però non starà per sempre nel nostro video. Amore, ci mancherai. Perché di nostro cugino. Ciao. Guarda, mi sta sul braccio. Emma, Emma, Emma. Ma guarda che è piccola. Non ho capito che è un maschio. Ma è piccolo, uè? I gatti erano sempre sinistrati. Per esempio. C'è piccolissimo. Ora è piccolo, uè? I gatti erano bambini. Wange, 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 wange. Emma cosa facciamo che non abbiamo? Sembrano madre e figlio guardate Emma, vai un secondo a dire che non c'è bisogno più di fare il cellulare su un altro c'è telefono perché c'è il mio, non fanno uscire i miei zipsi, vabbè i miei zipsi, o forse qualcos'altro, ma non sembra che pensare, non lo so Oh, dire che Mickey fa schifo, amore, scusa, non è vero Fa finta, fa finta che non c'è nessuno, sono Mickey con me che siamo fuori, che non c'è Perché questa casa è che mi si... è che ci stiamo resistendo, da bene Far finta di non essere resistendo Emma! sono fuori all'aria aperta con il mio latino sono fuori guarda che dei fiori sono fuori che dei fiori sono benessi io sono sola sola non è vero wow chi sei wow wow ciao vento come sei vento ciao vento ciao ciao lo sapevo lo sapevo